La regina di Versace compie oggi 67 anni, donatelana Sergio Calabria, da 25 anni alla guida della maison di famiglia dopo la morte del fratello Gianni. Debutta come stilista per Versus nel 1993. La rivoluzione arriva però in passarella nel settembre 2017 con la sua prima collezione Primavera e Estate. Tra le sue creazioni più celebri c'è Jungle Dress, il look in verde indossato da Jennifer Lopez durante i Grammy Awards sconqua solo l'algoritmo di Google per i troppi click. Nel 2017 vince il premio Fashion Icon ai Fashion Awards, il riconoscimento più importante che suggella la sua carriera.